La retara era colei che aspettando il ritorno dal mare del marito, cantava mentre incrociava e scioglieva i nodi della rete dei pescatori, mezzo indispensabile al sostentamento della famiglia. Rinna si è relazionata con la sezione della marineria del Museo della Regina, adiacente alla galleria legata alla pesca, aspetto basilare dell'economia dei centri costieri. Le sue mani, lavorando la lana rigenerata che lei usualmente utilizza per le sue sculture morbide, seguono lentamente un ritmo identico nello scorrere del tempo che scandisce i minuti, così come facevano le retare. Entra nella materia chiudendo o aprendo simbolicamente l'afflato della vita, un respiro che crea o che si spegne. Il canto della retara è la prima mostra organizzata all'interno del progetto Manzio, il cui titolo rimanda alla presenza di una stazione di sosta di età romana lungo l'antico tracciato della via Flaminia, dove poi nacque Cattolica. Questo insediamento diede vita a una tradizione di ospitalità che si rinnovò in epoca medievale e rinascimentale e da cui ha origine l'attuale turismo della città. Le residenze si collegano a questo e gli artisti coinvolti sono invitati a fermarsi, a studiare e a creare in forte connessione col luogo. Laura Renna ha intrecciato per tre giorni i materiali vegetali, quali la canapa, usata per la costruzione delle reti, il cocco e l'agave, e la lana, il materiale di origine animale, con i cittadini e le associazioni del posto, realizzando un arazzo che è stato installato all'interno del museo e che riprende in parte una mappa del Settecento presente nelle sale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.